Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore, abbiamo un concerto di 6 campane, sicuramente fuso da capanni e adesso aspettiamo la distesa festiva, suoneranno 4 campane. A presto! Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo ad Asti, questa è la chiesa del Sacro Cuore. Un saluto a tutti i campanari di Youtube. Un saluto a tutti i campanari di Youtube.